Una truffa colossale costata quasi 4 milioni di euro alla collettività. Due professionisti veneti, un ex commercialista veneziano ed un suo collaboratore padovano sono riusciti a pretendere rimborsi per contributi fiscali versati a loro dire erroneamente in eccesso grazie ad una serie infinita di piccole richieste di rimborso a comuni, enti bilaterali e camere di commercio e addirittura non paghi di un'attività che consentiva loro di vivere da nababbi, tra agi di tutti i tipi, feste, auto di lusso e ragazze immagine, hanno anche richiesto i contributi covid per le aziende con fatturato fino a 5 milioni di euro, ottenendone 4.000 su 10.000 richiesti. In realtà era tutto falso, costituivano aziende fittizie grazie a teste di legno arruolate in Italia o in Croazia, poi stilavano bilanci falsi, F24 falsi, dove risultava che avevano pagato tasse in misura superiore al previsto, poi richiedevano rimborso agli enti bilaterali o ai comuni per somme inferiori ai 4.000 euro per tenersi al riparo anche dei controlli dell'Agenzia delle Entrate. Questi enti, infatti, che anticipano i rimborsi per conto dello Stato, che a sua volta poi li risarcisce, non hanno molti strumenti per fare i controlli e procedono solitamente in fiducia, ma in questo caso la fiducia era proprio mal riposta. Per fortuna, dopo anni di truffe, un funzionario della Camera di Commercio, che si era visto richiedere un rimborso da 10.000 euro, ha pensato che c'era qualcosa che puzzava e ha attivato i controlli della Guardia di Finanza. Il fatto contavano su procedure completamente false? Su procedure completamente false, basate su compagini aziendali completamente inesistenti. E sul fatto che i controlli sotto una certa soglia, diciamo, passano quasi lisci? Certo, sperando di sfuggire i controlli grazie a tutta una serie di piccole operazioni. L'ex commercialista pare fosse già in passato al centro di verifiche delle fiamme gialle, e proprio per muoversi più liberamente avrebbe deciso di lasciare il suo ordine professionale. Per ottenere i rimborsi hanno coinvolto nella truffa tutti i parenti, dall'anziana zia alla compagna di vita di uno, alla sorella dell'altro, poi l'ex commercialista ha coinvolto anche qualche suo vecchio cliente imprenditore in difficoltà. Tutto per creare aziende di carta attraverso le quali continuare a garantirsi la bella vita. Anziché pagare debiti reali, venivano pagati debiti altrettanto inesistenti. Debbiti inesistenti che poi venivano richiesti al rimborso, e questi rimborsi entravano poi nelle tasche dei principali indagati e monetizzati o attraverso prelevamenti incontanti, oppure destinati su conti esteri principalmente croati, al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine del profitto di natura delittuosa. I due protagonisti sono stati arrestati, ma poi ci sono anche 35 denunce a vario titolo, 60 perquisizioni, sono più di 40 gli enti truffati, tra i comuni più grandi, quello di Bologna, e il più piccolo invece è quello di Arquapetrarca, da cui sono fatti pagare 9.000 euro. Creavano F24 a credito, ovviamente falsi, con deleghe per il pagamento di debiti fiscali, previdenziali e assistenziali, pagati appunto in eccesso, oppure compensazioni di crediti erariali fittizi con imposte realmente dovute, oppure la creazione di falsi crediti IVA con il solito metodo delle fatture per operazioni inesistenti. Una volta ottenuto il pagamento, uno dei due arrestati faceva una serie di prelievi Bancomat fino a svuotare il conto caricato con i rimborsi ottenuti. I soldi venivano versati poi su conti correnti esteri per rientrare in Italia sempre attraverso aziende fittizie. Oltre ai 3.700.000 già ottenuti ne avevano richiesti altrettanti. Per fortuna l'inchiesta ha bloccato almeno il pagamento di questi ultimi, sequestrati beni immobili per un milione di euro e vari conti correnti su cui si stanno facendo delle verifiche.